Scegliere Combattete per vincere Firebreak a terra Firebreak eliminato Steso Minaccia risolta Uccisione confermata Eliminati Liquidatore neutralizzato Materi a terra UAV pronto allo schieramento Durante la virata i sensori acquisiranno l'obiettivo Eliminati All'UAV resta metà serbatoio Contro misure elettroniche a T-R Outride a terra Richiesta urgente UAV riassegnato Autonomia C-UAV a 50% UAV di disturbo eliminato Minaccia risolta Sì, bene Raid alleato in arrivo Reaper ha sete di sangue Raid alleato in arrivo Arriva una profigione a mosto alleato Hater pronto Hellstorm alleato in arrivo Tacco Skier Raider UAV alleato in arrivo Fidetta uccisa Profit eliminato Profit eliminato Firebrack a terra Profit a terra Firebrack eliminato Firebrack eliminato UAV pronto allo schieramento Richiede un UAV UAV in arrivo Durante la virata i sensori acquisiranno l'obiettivo Coordinate colpo fulminante Colpo fulminante ricevute In arrivo Approvvigionamento in arrivo Iniquidato Batteria a terra Granata in arrivo Granata in arrivo Hcxd alleato in arrivo Delico eliminato Raid in arrivo Mimico UAV ostile individuato Fiamme spente Artiglieria distrutta Granata in arrivo Comico a terra Centro confermato Fiamme spente Orde Minuto Paragon Minuto 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 Gli ucciderò da vicino 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 Gli ucciderò da vicino